Il segreto della felicità non sta nelle cose, ma sta nel cuore, nella vita. Quando uno ama e ama tanto se stesso, trova il senso del vivere e nel senso del vivere c'è il segreto dell'essere felice. Non avere, accumulare, ma donare. 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 Noi possiamo augurare a voi certamente un'esperienza coniugale bella, serena, lunga soprattutto. Ma non possiamo dire che sarete sentati perché fa parte della nostra vita, dalle difficoltà, dai problemi, dalle incomprensioni. Ci saranno colline che dovrete superare, valli che dovrete colmare. E la vita è la vita di tutti i giorni. Ma se lo farete insieme, sarete capaci di andare oltre i problemi della vita. Ciao! Grazie a tutti Grazie a tutti